Dopo la trasferta in Franciacorta il Sovere ospita sul sintetico di casa la Stezzanese. Una partita interessante, prologo di una settimana intensa e importante. Stiamo cercando come al solito con la serenità giusta di riuscire a trovare quei meccanismi importanti per cercare di fare sempre risultato pieno. Come dicevi bene tu abbiamo in questa settimana che verrà tre partite sicuramente sulla carta importanti. La Stezzanese poi in frasettimana il Mornico e poi andremo con la prima in classifica contro il Valle Camonica. Diciamo che la squadra fisicamente sta bene, purtroppo dobbiamo cercare ancora di migliorare la fase realizzativa. Ora cominciamo a pensare una partita alla volta e cercheremo di preparare al meglio la partita contro la Stezzanese perché è una squadra veramente molto tosta e ha anche la sua classifica importante. Giochiamo in casa e dovremo sicuramente fare una grossa partita, però daremo del filo alla torcia per trovare ancora tre punti importanti. Diciamo che ultimamente i punti comunque stanno arrivando. Nel 2010 siamo partiti bene, abbiamo giocato tre partite e abbiamo fatto sette punti, però è chiaro che non è abbastanza e dovremo lottare fino alla fine cercando di incamerare più punti possibili. Ce la metteremo tutta per trovare sicuramente questa salvezza il prima possibile e poi non si sa, vedremo come andrà. Però l'importante è non lottare sempre, non mollare mai e i ragazzi comunque lo stanno dimostrando. Speriamo anche già la domenica prossima con la Stezzanese. Sicuramente avrò la squalifica di Razziti, avevamo alcuni acciacchi, Manzoni che domenica scorsa ha preso una botta in quel di Adro con il vizio Franciacorta. I soliti cronici Scandella, Meloncelli e Carità che stanno recuperando, però sicuramente non saranno dalla partita. Però credo che per il resto dovremo essere a posto. Grazie a tutti.